Bella ragazzi sono Andrea Grosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Two Wolves 2 Ok è partita via la telecamera vabbè Comunque siamo qui sul cavallo e dobbiamo ragazzi andare Qui che abbiamo la zia malata Se vi ricordate abbiamo questa quest da completare Quindi andiamo abbiamo preso il nostro bel cavallo proprio a fine episodio Quindi ragazzi se non l'avete visto questo episodio è andatelo a vedere Porca puttana queste Questi babbuni che hanno già rotto le palle vabbè Adesso noi andremo in linea retta Seguiremo la bandiera argentata, la bandiera grigia o come la volete chiamare voi Comunque qui è tutto un dritto Eccole che si è bagato il cavallo Cioè se si incastra Ok qui non dovrebbe esserci particolarmente casino A parte Questo breve dirupo Ma vabbè Lì vedo qua un fumo Cos'è quella roba? Vedo una roba rossa Sono... ma sono fiori? Credo di sì Siamo fiori Perché questa roba... Ma che è? Ah Roba... ok niente Adesso noi continuiamo ad andare dritto Però non ho capito se dobbiamo scendere o salire Aia Vabbè vai Tu con Etinua e... 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 fregatene Noi andiamo dritto Ma dov'è? Tipo in cima? Non lo so Comunque Ah lì si vede un castello Occhio Porca miseria Se lì si vede un castello non è che quello sarebbe il castello finale Blu non lo so Comunque 580 metri Eccala Aspetta ma noi dove cacchi stiamo andando? Ah E... Skookay Ma ci deve essere un modo per arrivare di là Porca puttana potevo fare sto giro E vabbè Eh ragazzi portate pa... Pazienza ma questo gioco lo sto scoprendo Ah ogni Ogni volta che Che faccio l'episodio Aspetta che voglio vedere sta... Questo non l'abbiamo scoperto Ok Palmetto trovato Ok Terza spot poi palmetto Vediamo un po' Occhio Sì che vi ricordo questo è anche un gioco esplorazione Quindi potremmo anche andare in giro Esplorare come stiamo facendo adesso che abbiamo trovato Una casetta abbandonata con... Chiuso alla bot... Una botola Però è chiuso C'è qualcuno qui il mi... Perché... Non... Se non... Non c'è nessuno posso anche cominciare a scassinare una... Cioè... Un po' tutto Ma non sembra che non ci sia niente Qui però posso No Tutto chiuso Va bene Non sembra che ci sia nessuno Va bene Però io per sicurezza Faccio un... Un salvataggio rapido Come sempre Perché non si sa mai Perfetto Iniziamo Ah migliorata Cacchio Eh c'ha quattro serrature Ok non dovrebbe essere... Non di difficile Dunque Allora Possiamo fare... Sì Anche abbastanza facile Non di difficile Vero eh Ah sì sì Siamo saliti di livello E adesso ci aumentiamo Ancora con questi cappelli Ma che cos'è Vai Meno abilità Quattro parametri Ma io darei la... Ma io darei la vita Così Eh vabbè Poi punti abilità Cosa Faccio Non... Non... Non saprei Vediamo poi guerriero Guerriero oppure Questi qua Metallurgia Cosa facciamo Eh... Non lo so Allora io direi che ci connetti Andiamo a... A migliorare in... Metallurgia E anche qui facciamo Il contraccolpo Non richiede forza 25 Forza 25 E possiamo fare... Eh questi qua Ok Ok così siamo più cazzotti cattivi Facciamo sì Ok Abbiamo confermato Ehm... Va bene Apriamo anche qui Serratura migliorata Perfetto Ok Questa è un po' più complicata La cosa Non è... Non so se ce la faccio Essere così veloce Proviamo Eh... Eh... Infatti Ho... Ho dovuto saltare E un altro punto abilità Ottenuto per Lo scasso Quante belle robe Che stiamo prendendo Aspetta fammi vedere Queste nuove Va che figata Ok no Questo ci sta benissimo Guarda Bellissimo Queste cose che facevano Ok da... Però non lo so Ah però questo da... No però questo da... Da più di velocità Non lo so Però mi... Mi migliorerei L'elmo Perché sì Ok Ok ecco Abbiamo finito la pelle Grande Beh ma sai cosa Distruggiamo questi E... Richiaviamo la pelle da questi Non è un problema Ok queste qui le... Le posso soltanto vendere Ehm... Questo qui Sì vabbè Vai Li distruggiamo Perfetto Ehm... Questa qui non lo so Ehm... Vedremo Eh queste qui Ne le vorrei vendere anche Va bene Vedremo Nel dettaglio Arco notturno Questo pe... Se strafigo Va bene Va bene Andiamo Punto ricompensa Rimettiamocelo Ehm... Energia 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 Perfetto Richiamiamo il cavallo Sono... Facciamo Un bel Solto Non è vero Non è vero Non salta Vabbè Comunque Verso il nostro obiettivo Ragazzi Che è oltre questa... Grandissima montagna di roccia Occhio 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 Ora c'è un modo per Salire qui In qualche brutta... C'è quella... Quella roba lì Aspetta Fammi vedere Fammi vedere Ma cos'è? Siamo... Siamo tornati... Ma siamo tornati in città? Più o meno Eh no Però... Eh... Non sai cosa Ho... Ho... Ho fatto Un po' Una cagata Però vabbè Esplorare Ma che che Ma che Posso sapere Che roba è questa? Ah... Una robetta Proprio così... Ah ok Il... Ok Un piccolo cimitero Posso esplorare Per vedere se c'è qualcosa? No però Non sembra che ci sia niente 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 di che? Ok Vai Niente Chiudiamo Cavallo Eh qui non lo chiama Ma... Ma dove siamo? A Bayan Qui? Ma che città è questa? Aspetta fammi vedere No a me questa sembra Baiana ragazzi Se infatti è Baiana Porca merda Va questa pastorta Però adesso siamo diventati talmente forti da Uccidere tutti con un colpo Ma dove sta il mio cavallo adesso? Cavallo Vieni qui Vieni Abbiamo Molta strada da fare Anzi Sai se cosa? Io ti lascio qui Perché io No io ragazzi Io mi devo ancora abituare In una maniera Assurda Con questo gioco Non sono abituato Allora Allora Qui per la strada Vabbè Tornate O dove sono? Qui ok quindi Ok quindi la strada è questa qui Quindi proseguiamo dritto Eh Antalor Eh Antalor sì Va bene Poi da qui Ma dove sta dentro? No non credo che si sta dentro Comunque comunque ragazzi dobbiamo farlo a piede Altrimenti potremmo Cioè avremmo potuto usare il cavallo Ma dovevamo attraversare Tutta L'isola Ok Tutta l'isola A cavallo No qui mi sa che Aspetta qui Sono andato in In un piccolo a cieco Mi dicono Ma chi è? Non so Saranno dall'altra parte Vabbè non mi interessa Però porca merda Ma questo è un labirinto vero e proprio Oh eccolo Ah ho capito Eh caldo Ce li siamo? Ma quest'oltre siamo molto più potenti Guardali quanti sono Porca che merda Ma sono morti tutti tutti Sì sì No vattene 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 Perché questo è Cazzo questo è cattivo eh Allora Arciera Arciera Arciere Il mago E poi Sto qua Muore La Grande fatality E' così che si fa ragazzi Oh Cazzo ragazzi La La soddisfazione Perfetto Ci sono una marea di Di robe Adesso che Che c'ho L'inventario che non è La sto manco Usando Quindi la Dovrei andare a vendere Al più presto Vediamo un po' Un maiale Ok Quindi Una Una robetta proprio così Va bene Io Io ragazzi Io depredo tutte Tutti Ok Prendiamo tutto Io depredo tutte Tutti Perché Sì perché io sono Nei giochi RPG sono abituato così Comunque ragazzi Per prendere tutto Dobbete utilizzare Questa Icona Del sacchetto Facendo così Vi sia proprio tutto In Venetario Così in un millisecondo Ok Prendiamo tutto Che così Andiamo a vendere Quello che dobbiamo vendere E andiamo a distruggere Quello che dobbiamo distruggere Siamo a 90 Su 125 Quindi Possiamo prenderci ancora qualcosa Lo sciamano Lo sciamano Vediamo un po' Cosa Questa roba E vabbè Questo qui Va bene Ok c'è anche una cassa Però io vorrei vedere Prima qua Ah ok Una roba Ma che è un Ah questa è una Gon Gorilla Mi dicono Va bene Andiamo a vedere qui Serratura debole Piccola cassa Va bene Vabbè questa Questa è Veramente facilissima Guarda Quindi Possiamo andare con calma Scassoriuscito Grazie E un pugnale Che è lo stesso Che Che ho io Tra l'altro Ma questo è più potente No Va bene Che poi tra Che Che tra l'altro Ragazzi Io non so qua Dove andare Se andare dritto Aspetta Mappa No ok Dobbiamo andare dritto Perché qui dopo Ma dove andiamo qua Cioè Un giro No allora Dovamo proseguire Dritto per di qua Che poi tra l'altro Il pugnale Non ne l'ho mai utilizzato Se forse Una volta o due Eccola Altri tizi Altri tessuto Trovato Soborchi Di Atmandor Guarda Quello che Arriva Vieni Vieni Ok C'è una Bellissima vista Ma Mi sembra che Non è a questo momento Visto che C'è questo qua Che sta rompendo le palle Là Porca miseria Va questo che scappa Chi c'è? Ok sta aprendo la porta Quindi ci saranno sicuramente Degli altri Che verranno No sono Sono là però Devo essere io Avvicinarmi Cioè Capisci? Cazzo Siamo quasi All'orlo ragazzi Non vorrei dire C'è anche una cassa Beh adesso Andiamo di Distruggere Un po' di robe Vai venite Vai venite 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 Di Dirittura Chi è l'altro? Dove sei? Aha Sì ma questo è un vero Proprio cane Accampamento Mi dicono Merda Va bene Adesso Adesso arrivo Arrivo Vieni Vieni Porca miseria Iena? Dirittura? Va bene Buone per me Morto è morto è morto Dov'è? Non lo vedo Eccolo Sono in due Taggali Taggali Uno Due Grande Grande No no Abbiamo vinto Abbiamo vinto C'è 111 Su 125 Siamo Quasi Siamo quasi All'orlo E va bene C'è 115 Ok Adesso dobbiamo Ritornare indietro Aspetta vediamo Questo qui La Iena Cosa ci da Cuore di Iena Giustamente 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 Altre belle Altre belle robette Cazzo Eh no Questo è figo A croce No aspetta Aspetta Inventaro pieno Di Lasciarli Antaloriana Questo qui Questo non è Non so Quanto costi Beh Allora Lascia Questa qui La andiamo A vendere Intanto Andiamo A distruggere Questi oggetti Qua Questo qui Vabbè Lo distruggo Sì Acciaio Ok Anche l'ombra Acciaio Un altro Distruggi Acciaio Acciaio E legno Mamma mia Guarda Qua Quanta E vabbè Sì Anche Anche Ste Robe Guarda Allora Miriadi Di Archi Così Cioè io penso Manco a Skyrim E si può fare Una roba Del genere Con 40.000 Archi Bastone D'aria Se lo distruggiamo Essenza D'aria E legno Va bene Bastone D'acqua Della terra Così facciamo Essenza Della terra E legno Ok E queste qui Le andiamo a vendere Eccole qui Essenza D'aria Essenza Di terra Perfetto E vabbè Anche qui Però Se devo essere Sincero Allora Questo qui Lo distruggiamo Questo qui Lo distruggiamo Anche se E' un po' Diverso Però Ok E anche questo Lo distruggiamo Ok Cosa manca Non manca niente Dovremmo Sì Dovremmo aver sistemato Adesso Ridammi Questo qui Che Lo voglio Perché è più potente Ehm No Dove è qui Dove Eccolo qua C'è Dicevo A che cazzo Di scudo Che c'è sto qua Perfetto Albero Visto che abbiamo Massacrato tutti Adesso Proseguiamo Ah Aspera Un attimo Che c'è Aha Ok Deve Altare di Aziralle Aumenta la forza E noi Continuiamo Mappa Vediamo un po' Ok Adesso Tutto dritto Per di qua Va bene Adesso noi andiamo in giro Con questo super mega Skull Chi è? Va bene Ma non è un problema Io La Uno E Due Ok Però non so se Se magari c'è anche Un intime Un post Ehm Diciamo Un raro Che si può trovare Uccidendo I I Mob Così Tanto noi Con il Mi ha Eccolo Non ci attaccano No Non ci attaccano Va bene Se al momento sto utilizzando l'ascia Invece che anche la spada Ma se ci stiamo avvicinando 70 metri Che cazzo Non lo so 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 Altra iena Salva Eh vabbè Quanto sono Perfetto Vai Fammi vedere cosa avete Cioè Fatemi vedere Che cosa avete Ma secondo me Se Ma c'hanno No Allora secondo me C'hanno anche Qualcos'altro Solo che È più Raro Da trovare Bisogna stare qui A Ucciderne Finché Perfetto Ma dov'è Qui Mi sa che È il sat È proprio qui Intanto c'è un teletrasporto Che andiamo a sbloccare Immediatamente Daxials Bellissimo nome Tra l'altro Ok qui I polli Anzi Oh Una nuova Città Cittadina Una nuova cittadina Perfetto E come prima cosa Andiamo dai mercanti Perché sì C'è C'è Se qui Quello chiama Se qui li chiamano negozianti Guarda quanto Quanto è figa Questa qui Che roba C'è Molto più bella Della nostra Va bene Scudo rotondo Ok Questo è abbastanza figo Però 1100 1100 Vabbè Io Io guardo Sembra che Che cosa hanno Loro in vendita E vabbè No Questa è Fighissima Hai Ho già Questa abilità Stordimento Sì però Costano Un cazzo Questi libri Abilità C'è C'è una Una marea Volevo dire Vabbè Intanto andiamo a vendere Questo qui Che Che è di magia Io Non me ne faccio niente Della magia Ok Eh magia dell'acqua Combina pietre Quindi questo lo lascio Scasso furtività Non lo so Sì No Non con questo Scasso furtività Guarda Io lo vendo Perché Se è scasso furtività Non me ne faccio niente Vediamo anche gli anelli Ok Questi qua Questo è quello che Avevamo prima Se comunque questo Lo distruggo No cioè Sì Lo distruggo Poi Tutte ste Cose qui Tipo Queste mille Fa re tre Le vendo Perché sì 12 Perfetto 12 E abbiamo questa qui Data 16 Poi anche questa Data 52 Questi qui Non lo so Vedrò Vedrò I gladi o no Questa no Questa sì Sì perché avevo detto Che l'andavo a vendere Questa qui Non lo so Però è più potente Di più 23 Rispetto a quella Che ho adesso Che è Questa qui Che è Che è 37 Mentre questa è 623 Ehm Ehm Eh sta 60 Non lo so Vabbè La lasciamo qui E vediamo Questa la Vendiamo Anche questo E faccio E vendo anche questo Poi L'essenza Non lo so Poi non costano niente Quindi Bah Vabbè Grazie Dunque qui Si possono vendere Proprio tutto Questo vende Ok Dei violini La costa Ok Le robette E il pigmento Che io devo ancora scoprire Che cacchio è questo pigmento Va bene Ok 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 Ragazzi Ehm Siamo arrivati in questa nuova città E Andremo a sprolarla meglio nel prossimo episodio Quindi Per questo episodio di 2 Walls 2 è tutto Vi ricordo che se siete ancora iscritti al canale Iscrivimi Se volete mandare risolvati sui prossimi episodi di questo gioco E di altri giochi Mettere un bel pollice nel su Se è piaciuto l'episodio Mi raccomando anche di dare la vostra in i commenti E noi ce ne sentiamo con un nuovo episodio di 2 Walls 2 Bella